Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna, per lavori, si segnala la chiusura delle corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Per questi lavori è chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in uscita, provenendo da Roma in entrata verso Bologna, e ci sono due chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. Ancora verso Bologna, rallentamenti tra Monte San Savino e Incisa Reggello, 3 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Scandici e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti tra Aglio e Calenzano. Sulla Fibili, per lavori, tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna, un chilometro di coda in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!